buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di mobilità 2022 2023 domanda numero 1 quando è prevista la pubblicazione degli esiti della mobilità 2022 e 2023 allora la mobilità 2022 e 2023 dei docenti titolari della scuola dell'infanzia della primaria e della secondaria di primo e secondo grado con contratto a tempo indeterminato è arrivata alla fase della pubblicazione dei movimenti il prossimo martedì 17 maggio salvo proroghe dell'ultimo momento ma non sono per adesso previste saranno pubblicati gli esiti della mobilità dei docenti anche il personale educativo conoscerà gli esiti della mobilità proprio il 17 di maggio la comunicazione dell'esito di della mobilità verrà anche tramite l'invio nella casella di posta elettronica indicata sul sito delle istanze online per i docenti di religione cattolica l'esito della mobilità sarà pubblicato il 30 maggio 2022 invece per il personaleata che chiude la gli esiti della mobilità è previsto la pubblicazione per il 31 di maggio domanda numero 2 se all'esito della mobilità si dovesse riscontrare che qualcuno ha ottenuto la mobilità su un posto da noi richiesto ma con punteggio inferiore qual è la procedura da seguire per l'eventuale reclamo beh ai sensi dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità è consentita avverso agli atti pubblicati dall'ufficio territoriale competente la presentazione da parte del personale interessato di motivato reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto rivolto all'organo che lo ha emanato l'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità e di competenza dell'ufficio dell'amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità detto ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri uffici dell'amministrazione domanda numero 3 cosa accade al docente vincolato che ha potuto fare domanda di mobilità in caso di esito negativo della sua istanza il docente che era vincolato per un triennio nella scuola di attuale titolarità ma che ha potuto fare domanda di mobilità per effetto del ccn immobilità 2022 2025 se non avesse ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo o di cattedra continuerà a permanere per l'intero triennio del vincolo nella scuola di titolarità speriamo che le risposte alle domande poste siano utili ai nostri telespettatori continuate a seguirci sui nostri canali social facebook instagram youtube perché continueremo a trattare temi sulla mobilità e anche altro ora arriverà il periodo delle gps dunque tratteremo molto anche il tema delle gps e seguiteci nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it arrivederci a tutti